quando si parla di cameo italiano si parla di un gioiello veramente prezioso si parla di lusso di lusso accessibile e di un lusso che può essere declinato anche a seconda della personalità delle esigenze perché mi piace il fatto che noi possiamo andare a personalizzare e che poi non è creazione unica perché è realizzata dalle mani dei maestri incisori mai nessuna cioè quel fascino indiscutibile dell'imperfezione bravissimo a proposito di imperfezione andiamo a vedere questa bellezza quest'opera d'arte assoluta questo è un ciondolo che è veramente elegante importante raffinato e allo stesso tempo leggero vero è proprio tutte queste cose insieme mi piace il simbolo della rosa quindi ancora una volta ritorna un elemento romantico ritorna un elemento molto femminile molto femminile legato alla tradizione ha legato alla natura dalla quale tutti proveniamo senti qui che cosa abbiamo invece una margheritina al centro una margheritina e abbiamo uno zircone verde in questo caso diciamo che questo è un ciondolo ricco di dettagli perché abbiamo tante particolarità ancora sono tutte quante perle di acqua dolce di diverse dimensioni e poi la bellezza di queste perle che ognuna ha una forma perché sono perle naturali quindi non sono tutte uguali a se stesse tanto è vero che ne abbiamo alcune molto più piccole alcune leggermente più grandi ma tutte diverse vero e poi qui a salire abbiamo ancora delle perle ancora più piccoline sempre di acqua dolce e questa maglia che è tutta quanta proprio realizzata con questo motivo delle perle devo dire che è un gioiello mi piace quello che hai detto all'inizio ricco ma leggero quindi perfetto anche per una ragazza una camicetta bianca un top impreziosisce senza appesantire la figura per niente è bello anche magari proprio per una cerimonia che non so una comunione per esempio da regalare anche oppure molti vengono a fare regali qui da noi perché stai regalando qualche cosa che ha una storia importante alle spalle quindi un significato poi con il gioiello sottolineiamo sempre un passaggio sì una ricorrenza e questo secondo me diventa davvero un bellissimo pensiero anche perché poi c'è la rosa ditelo con un fiore non sbagliate mai mai grazie grazie debora grazie 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 grazie